Parliamo di Europa e la notizia giunge dal Portogallo. Con l'arrivo del nuovo codice della strada, infatti, nuvole nere sulla sosta libera dei camper. Da discussione in atto, salvo ripensamenti dell'ultimo momento, dovrebbe passare alla linea che vieterà la sosta libera di qualunque tipologia di veicolo ricrazionale sul suolo lusitano. La sola possibilità di sosta sarà, dunque, quella regolamentata, tradotto, campeggi, aree di sosta e aree comunque adibite alla sosta di camper.